Un saluto dal Tg della mobilità per venerdì 6 ottobre, è prevista una manifestazione per il clima con corteo tra le 9 e le 13 da Piazza della Repubblica, Piazza di Porta San Giovanni, percorrendo via Luigi Einaudi, Piazza del Cinquecento, via Cavour, Piazza dell'Esquilino, via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Dello Statuto, Piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto e Piazza di Porta San Giovanni. È prevista la deviazione o limitazione per 26 linee di trasporto pubblico. All'iniziativa è annunciata la partecipazione di circa 5.000 persone. È tutto appuntamento alla prossima edizione.